Quale destino per l'area dell'ex cartiera Burgo di Chieti e ancora di più quale destino per i 100 dipendenti che ad oggi non percepiscono più nemmeno gli ammortizzatori sociali? Questa è l'interrogazione prodotta in consiglio da Alessandro Marzoli. Sono praticamente passati otto anni da quando quella cartiera ha chiuso un accordo di programma importante che prevedeva il riassorbimento in nuove attività imprenditoriali di quei lavoratori però a parte qualcuno a distanza di molto tempo, compromesse e poca chiarezza oggi la situazione è quasi invariata e ci sono circa 100 lavoratori che si trovano in condizioni di difficoltà estrema anche perché da diversi mesi sono finiti gli ammortizzatori sociali. Se ci sono dei problemi anche di carattere ambientale sui terreni o se le acque, se ci sono delle difficoltà oggettive o dei motivi ostativi che impediscono l'apertura di nuove attività imprenditoriali e di conseguenza la restituzione del lavoro a quegli ex operaiburgo è bene che il sindaco faccia di tutto per risolverli se c'è la possibilità o se non ha la possibilità di risolverli lo dica con chiarezza. A rispondere arriva l'assessore Carla Di Biase che spiega come la questione fosse stata già più volte messa sul tavolo fino a poi trovare uno stop presso la regione Abruzzo. Sua infatti la competenza sulla questione della caratterizzazione del suolo, una parte ancora non effettuata, condizio sine qua non, per procedere alla bonifica del sito. Ad oggi il problema principale però rimane la caratterizzazione del suolo di alcuni insediamenti e la competenza è esclusivamente regionale. Abbiamo convocato la Burgo e la regione la quale non si è presentata all'incontro e abbiamo favorito anche accompagnandoli con i mezzi di nostra proprietà e con dei nostri dipendenti un ulteriore incontro tra la Burgo, cioè proprietaria del terreno, e i dipendenti regionali. Io invito il consigliere Marsoli a farsi promotore insieme a me in regione di un'accelerazione dei tempi per quanto riguarda la caratterizzazione del suolo e poi un invito alle ditte e alla Burgo di venire presto, oltre che alla promessa di vendita, a un vero e proprio contratto che possa favorire quindi il comune nell'accelerazione di tutte le pratiche.